Il rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2022 è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale della Basilicata. Con il disegno di legge licenziato si sostituisce il precedente che era stato adottato dalla Giunta regionale nel 2023 per adeguarsi alla decisione del 31 gennaio 2024 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata. Con tale decisione la Corte aveva parificato il rendiconto generale della Regione Basilicata con delle eccezioni che riguardavano le spese per il personale, le borse di studio per i medici di medicina generale, il potenziamento della rete territoriale, le assegnazioni dello Stato per la sperimentazione e la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie, gli oneri per il sostegno ai servizi ferroviari dell'alta velocità, la parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022. In adeguamento ai rilievi indicati dalla Corte dei Conti, la Regione Basilicata ha adottato le misure correttive e a seguito di tali misure il disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022 è stato rideterminato complessivamente in circa meno 10 milioni di euro.